Sì, in effetti qui a Fano abbiamo visitato tre luoghi simbolo, mettendo sempre in evidenza le eccellenze ma anche le criticità che sono sotto gli occhi di tutti. Ad esempio abbiamo visitato l'ospedale, parlato con alcuni operatori e permane proprio questa sensazione, sia dal punto di vista politico che della documentazione, del fatto che a Fano ci siano dei reparti completamente nuovi, ristrutturati, professionalità elevatissime, eppure Ceriscioli parla ancora di ospedale unico e anche Ceriscioli si accontenta probabilmente di avere prima o poi un ospedale che sarà solamente un poloambulatorio, quindi uno spreco di energie e di soldi che secondo noi deve essere assolutamente evitato. Secondo appuntamento l'abbiamo fatto al porto di Fano con la marineria, eppure il dragaggio del porto ad esempio è stato fatto in emergenza solo grazie all'intervento del prefetto e non si trovano e non si vedono azioni nuove per far sì che questo interramento del nostro porto possa essere evitato negli anni a venire perché ad esempio già da adesso l'imboccatura del porto si è riempita di sabbia e le barche fanno fatica ad entrare e ad uscire, quindi non c'è una prospettiva perché non si è ancora trovata un'area all'esterno del porto dove eventualmente buttare i fanghi e la sabbia in eccesso, non c'è una variazione PRG portuale per trovare una cassa di colmata magari dove mettere appunto questi fanghi. E per ultimo siamo andati nella zona della Sassonia dove sono state posate recentemente le scogliere ma quest'opera non è stata conclusa e viene praticamente disattesa perché una parte appunto di questa scogliere non è stata terminata e quindi l'erosione del mare ha tolto grandissima parte di questa spiaggia. Anche qui il consigliere Minardi aveva detto che erano pronti un milione di euro per far sì che venisse terminata ma in realtà noi abbiamo visto dai documenti anche nazionali che questo milione di euro era solo sulla carta, oltretutto inserito in un progetto che è stato definito incostituzionale quindi ad oggi onori e doneri al nuovo governo per trovare questo milione per terminare l'opera. Quindi ecco, abbiamo visto che la nostra città ha delle potenzialità enormi, delle eccellenze già affermate. Ecco, noi lavoreremo i prossimi anni e soprattutto dopo le elezioni, se vinceremo le elezioni del 2019, per far sì che fanno ritorni veramente protagonista sia della provincia che della regione, essendo poi definitivamente ancora oggi la terza età delle Marche, sperando di meritarsi appunto questo appellativo.